La polizia di stato di Caltanissetta ha denunciato una ragazza di 30 anni perché sorpresa alla guida sotto l'influenza di alcol ha causato un incidente stradale conferiti sulla strada statale 626. Gli agenti della sezione volante domenica sera sono intervenuti sulla strada statale 626 perché era stato segnalato un incidente stradale conferiti. I poliziotti una volta sul posto hanno identificato i conducenti dei due mezzi coinvolti che sono stati sottoposti entrambi ad alcol test. La trentenne conducente di uno dei due mezzi coinvolti positiva al test con un alto tasso alcolemico è risultata essere responsabile della causa dell'incidente. La ragazza alla guida della propria auto in transito sulla strada statale 626 in direzione di Caltanissetta durante una curva avrebbe invaso la carreggiata opposta dalla quale in senso inverso di marcia proveniva un altro mezzo. Fortunatamente i due conducenti e i passeggeri dei due mezzi a seguito dell'impatto hanno riportato lievi ferite curate nel locale pronto soccorso.